Un saluto dalla redazione DGR Asi, in studio Marco Paganelli. Covid-19, il lockdown generale in Italia non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti delle misure in atto. Lo ha dichiarato oggi il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi. L'esperto ha aggiunto che in molte regioni la situazione sta peggiorando, mentre in altre è stabile. Dobbiamo quindi arrestare e invertire la curva, ha concluso il consigliere di Roberto Speranza. Andiamo all'estero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricoverato oggi in ospedale a Kiev, dopo essere risultato positivo nei giorni scorsi al coronavirus. Lo ha riferito nelle ultime ore l'agenzia di stampa nazionale UNEAN, citando fonti del governo. Torniamo in Italia. Giornata negativa a Piazza Fari. L'indice Fuzzi-Mib della Borsa di Milano segnava alle ore 11.44 di oggi un calo dello 0,39% a 20.911 punti. E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto. Ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi. Grazie a tutti.